Il movimento di camion per il trasporto di ghiaia all'interno di una cava, la castella al confine fra Brescia e Rezzato dovrebbe essere una consuetudine considerando l'attività estrattiva presente al suo interno. Invece lo spostamento da una parte all'altra della ghiaia non ha lo stesso valore per l'ecosistema che si sta creando al suo interno come denunciano i membri del comitato Codisa. Sembrerebbe che parte di questa ghiaia sia stata depositata in quella che viene definita una zona umida dove è stata fatta un'indagine ornitologica nel 2013 dove si sono stati trovati degli uccelli alcuni dei quali hanno nidificato e che quindi erano uccelli in via d'estinzione protetti dalla normativa uccelli della comunità europea. Fra queste specie di uccelli il più famoso è sicuramente il Cavaliere d'Italia che nidifica in questa cava già da qualche anno ma non solo. C'è stata comunque una risalita di falda perché si presentano alcune formazioni di erba tipiche delle zone in cui il sottosuolo è ancora umido e bagnato. E proprio la risalita della falda dovrebbe costituire l'effettiva pietra tombale sulla richiesta presentata dalla proprietà della cava di trasformarla in una discarica di rifiuti speciali in grado di ospitare oltre un milione di metri cubi di materiale. Un'ipotesi che ha però già fatto passare al contrattacco l'imprenditore autore di una seconda richiesta. Quindi su quest'area abbiamo in contemporanea due procedure e due autorizzazioni differenti. Una per la realizzazione della discarica a Castella e l'altra invece per continuare la cavazione all'interno dell'Ate 25 scendendo a meno 10 rispetto al piano campagna e quindi andando a cavare anche in acqua. Una richiesta che si accompagna a quella rivolta ad alcune proprietà diacenti di poter depositare degli inerti rendendo comunque la zona una discarica. Il sogno del Codisa riguarda un altro. La zona umida dell'Ate 25 diventi insieme alla cava Pasotti che noi chiamiamo Osi due punti di rilevanza fondamentale per quanto riguarda il parco delle cave dove c'è una possibilità per la vifauna di soffermarsi e di riprodursi e quindi che diventano due specie praticamente di zone protette all'interno del parco delle cave anche perché il parco delle cave dovrà fare da cerniera tra la pianura e la collina e quindi il parco delle colline. Come nella cava Pasotti la natura è stata capace di riprendersi un'area deturpata così dovrà accadere con diverse aree della città. Per costituire proprio questo corridoio ecologico che colleghi non solo la vegetazione ma anche la fauna al parco delle colline e così fare tutta una cintura verde attorno alla Brescia che ne ha decisamente bisogno.